ok tornando a noi adesso siamo sui canali della parabola però voglio trovarne uno che si vede in chiaro adesso su cine 34 attiva fragello di dio mi sintonizzo vediamo se si vede in chiaro qui esce hotbird quindi è sulla parabola però non si vede perché sono canali criptati quindi andiamo su elenco ne dobbiamo cercare uno ha comunque si riconoscono perché c'è questa questa questo rettangolo rettangolino così quindi se noi clicchiamo su uno di questi si dovrebbero vedere si dovrebbe vedere anche in chiaro andiamo su ok e come vedete questo canale radio italia che è sulla parabola se noi clicchiamo sull'elenco ci dirà che questo è questo canale radio italia si trova sul 35 del satellite o satellite hotbird tv sat quindi quando non c'è questo rettangolino qua il canale non è trattato quindi si vede arte hd clicchiamo su ok vedete che hotbird e il canale si vede sul satellite in chiaro ok spero che questo video ti sia utile a risolvere il problema dei canali satellitari su smart tv samsung se ti è utile lascia un like ed iscriviti al mio canale ciao ciao